Sono ancora più cattivo perché io purtroppo ritengo che lei tenga una posizione ancora troppo morbida e allora gli dico questo, io ho capito bene il suo linguaggio della negoziazione e della meditazione e dice che in realtà arrivando a questo tutti ci guadagnano e adesso devo dirle, con la posizione attuale dei burocrati dove loro sono padri e padroni del sistema, dei finanziamenti del sistema, del farlo funzionare cosa sapete dargli lei con la mediazione e la negoziazione? Cosa si potrebbe dargli più oltre di essere padri e padroni del sistema? Forse questi sono gli unici che qualcosa devono perdere, non guadagnare. È l'idea proprio del perdere e del vincere che è strano alla cultura del consenso e per incentivarli a una maggiore operatività il sistema cede, è molto semplice, abolire lo stipendio che è qualcosa che non ha alcuna logica, perché lo stipendio nel diritto del lavoro viene definito, visto che ci siamo arrivati alla cattiveria, questo è ovvio, ormai nel mondo è così cioè io non è che dico cose strane, sono strane in Italia, ma nel mondo è assolutamente normale il diritto del lavoro dice che lo stipendio è la remunerazione delle prestazioni lavorative poi andiamo a vedere in pratica che non è così, perché se fosse vero questo sul cedolino ci sarebbe scritto ha fatto tot azioni e di conseguenza prende questo stipendio invece non sta scritto così, sta scritto giugno contro mille, di che significa incentivare la non attività del dipendente. Lato Yoda, ho detto prima, che prevede il massimo dell'incremento nella carriera e se uno suggerisce un'idea, lato Yoda ha napolito stipendio ormai da vent'anni, c'è una specie di, so cosa che in Italia forse vorrebbe far spaventare una parola di questo genere, di cottimo, ma il cottimo non ha di per sé nulla di distruttivo se è premiante. Allora quello che manca in Italia nel sistema lavorativo e vedo invece in questo statuto molto di questi convincimenti squisitamente negoziali è la motivazione tutti facciamo meglio qualche cosa se siamo motivati a farla, se la dobbiamo fare la facciamo malvolentieri, se la vogliamo fare cambia completamente la musica. Il sistema berlusconiano, quindi questa idea, questo progetto politico si poteva insediare e bastava zerare i stipendi di vendenti pubblici e ammazzare il mostro. Io credo che ci sono alcune cose che si possono, c'è una cosa che dice adesso il professore che è molto vera, cioè in Italia si pensa che fatta la legge è fatto tutto, purtroppo non funziona così, è come se un'azienda dice visto che abbiamo scritto quali sono gli obiettivi sono raggiunti. No, poi bisogna lavorare tutti ogni giorno, qualcuno che controlla, qualcuno che stimola, qualcuno che sanziona, qualcuno che prega, cioè è tutto un lavoro e lo si fa inevitabilmente con le persone della macchina, potendo introdurre meccanismi di premio e di sanzione. Adesso non per parlare della mia regione, la mia regione una delle prime cose fatte è l'amministrazione Formigoni, quindi all'inizio, dal 1995 e funziona, essendo stato eletto per il quarto mandato con oltre il 60%, credo che i cittadini lombardi l'abbiano apprezzato, la prima cosa che abbiamo fatto è stata la riforma della dirigenza, creando un unico ruolo di dirigente, quindi basta fasce e quello è il minimo stipendiale che hanno tutti, perché ovviamente non si può fare diversamente. Poi c'è una parte dello stipendio che varia moltissimo, che dipende dalla posizione, ma la posizione dipende da quante persone devo gestire, quante competenze devo gestire, quante risorse devo gestire, per cui il direttore generale della sanità non prende quanto il direttore generale della direzione giovani sport, perché uno gestisce il 70% del bilancio e l'altro gestisce l'1%, quindi c'è una differenza, mi sa, il 30% è sul risultato, ma il risultato sono gli obiettivi della giunta, non sono quelli che fissano, poi loro ogni anno devono dire quali obiettivi specifici e come li raggiungono, devono dimostrare loro di averli raggiunti, quindi devono essere misurabili. Sono provocatorio, quindi in realtà nel 94 dovevamo trasferire il modello Formigoni, utilizzare la tattica Formigoni per il progetto politico Berlusconi. Finisco, ma perché dietro questo c'è una cosa, così come quelli sotto la dirigenza si è creata una funzione alcuni, per ogni direzione generale, di quadri, è una funzione temporanea, dura due anni, non dà diritto a nulla, non è un diritto acquisito, è il doppio dello stipendio, ovviamente non si calcola lo straordinario, sono quelli che forse lavorano più di tutti, perché nessuno dopo due anni vuole tornare a metà stipendio, è diventata una molle e nessuno nomina neanche l'amante, lo nomina il direttore generale, li sceglie lui, perché fra l'altro i suoi risultati servono a prendere il suo premio, perché il premio direttore generale è di squadra, quindi oltre che il suo personale, quindi questo ha creato un meccanismo, ma perché? Perché l'idea è che la regione deve essere una macchina che mette al centro il cittadino, dove il proprietario, il cittadino, perché in fondo un ente pubblico cos'è? È come un'azienda privata un po' più difficile da gestire secondo me, perché ha un problema in sé, che il cliente è l'azionista, ed è difficile servire uno che è contemporaneamente, che è il cittadino, però se lo si mette al centro, questo semplifica molto, semplifica molto, ad esempio, dire come facevo prima l'esempio della disoccupazione, noi finanziamo chi ti trova al lavoro, ma lo decidi tu da chi andare, vai da quello che te lo fa, questo quindi pagare il risultato, questo vale per i dirigenti, ma vale anche per i servizi che sono fatti fuori. Perché se c'era un modello che valeva il ministro Brunetta, che è il ministro di Unione Pubblica, non ha apportato nelle sue grandi evoluzioni anche alcune soluzioni che vanno in Lombardia? Questo dovrebbe, non so, bisogna chiederlo a Renato Brunetta, ad esempio, una funzione importante della mediazione sarebbe socializzare forme che funzionano, ad esempio a livello di regioni che, se la regione Lombardia ad esempio ha i conti in pari con la sanità, ed è quella che le ha più in pari di tutti, è anche perché ha una macchina burocratica efficiente, cioè il fatto che la regione Lombardia paga i fornitori entro 60 giorni, consente di avere dei prezzi che non ha una regione come la Calabria che paga a tre anni. Non è che il filo di struttura per la chirurgia costa il doppio in Calabria perché là gli imprenditori truffano, è che là gli imprenditori sono pagati a tre anni e quindi hanno tutti gli oneri finanziari di un pagamento a tre anni. Quindi chi spende male spende di più, ma chi spende di più fa un pessimo servizio ai suoi cittadini. Ma la questione vera è mettere il cittadino al centro, caso anche il cittadino imprenditore, è la stessa cosa. La questione vera è questa, se lo Stato deve essere la pubblica amministrazione un totem da adorare o se invece deve essere quello da adorare è il cittadino. La pubblica amministrazione è il servizio del cittadino. Ho trovato molto bella l'espressione prima del professore, quando diceva una cosa simile sull'impresa dice il mio commercialista, dice in 40 anni di onorata carriera non ho mai incontrato una persona giuridica, solo persone fisiche. Perché è vero, le imprese sono fatte di persone, ma anche la pubblica amministrazione, per cui questa idea, fra l'altro secondo me è odiosa e irrealistica, per cui la pubblica amministrazione in sé è buona e l'impresa se sei cattiva, il privato è cattivo, il pubblico è buono. È una cosa che non sta veramente da nessuna parte. Con un aggravante se posso intervenire, che adesso questi concetti così essenziali devono essere rispettati per forza, cioè globalizzazione e internet hanno annullato due concetti che sono esistiti negli ultimi miliardi di anni, tempo e spazio, che sono saltati completamente e io sono abituato a pensare che le tecniche di negoziazione e mediazione servono per il sistema Italia, per la sopravvivenza del sistema Italia. So di dire qualcosa di molto duro, ma ormai il confronto è inevitabile in qualsiasi settore. Le imprese devono poter vivere confrontandosi con tutte le altre imprese. A Piazza Vittorio ci sono i cinesi, a Roma. E quanti italiani hanno occupato una piazza a Pechino? Cioè ma non c'è proporzione. Continuiamo a pensare che noi siamo in una situazione particolare e rimarremo fuori. Un compilino per le vacanze, no per le vacanze scusate, un compilino per il prossimo incontro che ci avremo. Io dico questo, se una soluzione è possibile, non mi rispondete oggi perché poi passiamo la palla a Franco, passiamo la partita a Franco per chiudere la trasmissione. E se fosse possibile che all'insediamento di un nuovo governo si insedia tutta la nuova burocrazia e che alla fine di un governo l'intera burocrazia, diciamo così, va a casa, come soluzione? Potendo i politici scegliere da un albo, un albo di persone abilitate ad essere pubblica amministrazione. Questa è una provocazione che io vi faccio per capire se potrebbe essere il sistema per dire, il sistema è scomparso, il sistema è stato abbattuto e ogni volta abbiamo un burocco che sa che arriva perché è bravo e perché deve far funzionare l'azione politica. Franco, come tu? Posso dire un'ultima frase breve, come imprenditore, per esperienza. Quando si accumulano degli operai o delle persone che non sono più responsabili ma hanno fatto un cumulo tra loro, l'unica cosa che puoi farle funzionare è dividerle tutte quante completamente, dal dirigente in poi, quello in quel modo puoi farle funzionare. In Italia noi abbiamo un'aggregazione totale di questa situazione e per farla funzionare deve essere per forza sgretolata di nuova, cioè non distrutta, ma bensì sgretolata facendo diversi sistemi in cui responsabilizzi l'uno e l'altro, in cui cambi determinate situazioni e ne metti a posto altre, se ci sarà la volontà dei guarni che verranno, perché altrimenti rimarrà immortale. Non so se siete d'accordo su questo aspetto, io la vedo in questo modo così. Bene, ti ringraziamo. Un minuto, possono 30 secondi per uno se voglio, in questo potete, potrevole? No, sì, il problema è vero, però io credo che ci deve essere anche da parte della politica la voglia di dare degli obiettivi molto chiari e pretendere che vengano raggiunti, perché è anche una questione di lealtà nei confronti degli elettori, se io sono eletto su un programma devo farlo e tu pubblica amministrazione mi devi evitare, poiché io possa prendere, fare Spoy System, prendermi un dirigente dal privato perché è più bravo, questo deve essere una possibilità che in parte c'è, molto limitata, ma che può fare la differenza. Professore? L'uomo è per definizione un animale sociale, tutti abbiamo bisogno di tutti gli altri, se riusciamo a cooperare, se c'è qualcuno che non è disposto a cooperare bisogna capire per quale ragione e non spellerlo dal sistema, perché altrimenti cercherà di vendicarsi. Bene, sì effettivamente ha ragione anche, diciamo come ha detto giustamente il professor Mario Quinto, però bisogna anche vedere se questa persona è lui che effettivamente prova a questa situazione o sono gli altri che la provocano, quindi a quel punto poi dovremo provare per il meglio. Mi scusi che faccio questo ragionamento perché... Siamo da ora in poi seguibili anche sul sito www.recreazioniitv.com, si possono avere tutte quante le puntate precedenti, si può scrivere alla redazione e si può quindi stimolare noi ad affrontare argomenti che sono a cuore ai nostri vocitativi. In modo vorrei ringraziare veramente i nostri carissimi ospiti perché abbiamo sentito come imprenditori delle parole uniche, delle intelligenti vere che sanno veramente come gestire il lavoro dell'imprenditore in particolare e speriamo che possano avere anche il potere loro per poterlo mettere in atto, quello ci auguriamo. E domani accontentiamoci la legge sulla zona delle imprese. Va bene, ringraziamo veramente l'onorevole Raffaello Ignali per la sua presenza, il nostro professor Mario Quinto per la sua presenza, ringrazio anche te per essere venuto come politologo come ormai da anni e ringrazio tutti voi cari spettatori per averci seguito e le prossime volte, qualsiasi momento, volete mandare delle mail o qualsiasi cosa potete mandarle tranquillamente, vi faremo rispondere dall'interessato di stessi. Grazie e buonasera a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.